Siamo al Canile e qui c'è veramente una bella storia, un'adozione del cuore importante. In questo momento Ilaria tiene in braccio la piccola Camilla, ci racconti la sua storia. Sì, allora Camilla è una gattina giovane di un anno e è arrivata in Canile insieme al fratello Ciro, un gatto bianco e rosso. Purtroppo il loro proprietario sta molto male e è in ospedale e non si può prendere cura di loro e quindi sono arrivati da noi. Cerchiamo un'adozione, meglio sarebbe se di coppia, visto che sono sempre stati insieme, sono fratello e sorella, sono gatti abituati in appartamento, non sono mai usciti e ovviamente qui da noi sono spaventati, però sono molto affettissimi. E quindi insomma questi gattini un appello per prenderli, vero? Sì, una casa se la meritano. Al Canile di Arezzo c'è la piccola Penelope che cerca casa, Ilaria ci racconti la sua storia. Sì, allora Penelope è una gattina giovane, avrà meno di anni, è stata trovata incidentata in via Calamandrei, l'avevano investita, era sul ciglio della strada, pioveva, nessuno si è fermato, se non un nostro volontario che la soccorsa e la portata subito dal veterinario. aveva il bacino rotto, è stata operata, è stata sterilizzata e ora sta bene, cerca una casa, è testata per l'EDS e la lucemia felina, è affettuosissima e non ha neanche problemi con gli altri gatti. Penelope cerca casa. Penelope. Penelope. Penelope.